ciao a tutti ragazzi oggi vi mostro la mia ep box che mi ha regalato prenatal la potete ritirare tutti adesso vi lascio il link qui sotto dove potete scegliere comunque la sede prenatal dove ritirarla e vi darà questa magnifica box adesso vi faccio vedere all'interno che cosa c'è allora partiamo subito da questo che sono due pannolini taglia 2 della marca pillo premium sono quelli di 36 kg di questa marca poi abbiamo un biberon anticoico della mamma il colore è sul beige poi qui abbiamo questi cassini adesso vi faccio vedere guardate che sono teneri con le paperelle poi qui dentro abbiamo questa bustina fiocchi di riso che all'interno c'erano questi due queste due tremine qua abbiamo detergente corpo e capelli qui invece il talco non talco con questa brogiure e poi qui all'interno di questa carpetta abbiamo trovato questi buoni sconto della re caro della chico della forever young della boppi progetto salute insomma tutti questi buoni sconto dove comunque possiamo andarli a ritirare andare a prenderli negozio con uno sconto speciale e niente ringrazio ancora la pre natale per questa happy box grazie ancora